All'altro gruppo, per il box group, per la propria cipre, accompagnato preschi, per i cagliani, scorelli, carlos, ramide Compo di lui All'altro rosso, per il box group, per i cagliani, scorelli, carlos, ramide Compo di lui, accompagnato preschi, signor Alessandro 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 Al Sottotitoli non c'è mai, eh! Prima tu! Carlos uno e poco, eh! Vai, vai! Via, via! Via, via! Via, via! Via, via! Via, via! Via, via! Esci! Prima per voi, Carlos! Andiamo a sinistra! Via, via! 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 Abbiamo a sinistra, Carlos! Ancora! Via! Via a sinistra, guarda sotto! No! Prima a sinistra! Via, via! Eccolo, vai! Uno e mezzo alla fine, Carlos! Così via! Così via! E riparti! Riparti dritto! Riesci via! Preciso, Carlos! Non risolgendo, Carlos! Sto chiedendo! Via, riparti dritto! Prima a sinistra! Vedi che entro sempre che andiamo a destra, Carlos! No! 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 Così via! Bravo! 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 Sì, signor! Prima, però! Dai, segnate il therefore! Io sono trenta secondi alla fine, 30 alla fine, Carlos! Doppilo, Carlos! Sinistilo! Sinistilo, Carlo! Deciso! Vai destra! Carlo! Esci! Desra... Esci, Carlos! Stop! Carlos, devi usci prima, eh? Forza! Esci con il testo! Grazie a tutti Grazie a tutti Dopo 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 Dopo